Buongiorno a tutti. Cominciamo un dibattito che ha per titolo, come avrete visto, quando le Costituzioni sono scritte dai cittadini. Quindi è un problema che riguarda la partecipazione civica. Dicevo che il dibattito è intitolato quando le Costituzioni sono scritte dai cittadini per indicare l'attenzione a livello partecipativo con cui sono state fatte di recente la Costituzione islandese nuova che non ha ancora raggiunto l'ultima tappa perché, come vi dirà la relatrice islandese, adesso poi vi presento subito le persone, i relatori, non è arrivata ancora la tappa finale della riapprovazione da parte del Parlamento, una seconda approvazione che occorre secondo la Costituzione vigente. E poi si parlerà delle Costituzioni dell'Equador e della Bolivia che sono poi forse un esempio anche per il mondo latinoamericano in genere. Vedremo che la partecipazione è diversa nei due casi, almeno così mi sembra, poi sentiremo i relatori, perché nella Costituzione islandese c'è stato un procedimento molto formalizzato anche ricco di tappe, pensate in maniera formalizzata come un po' tipico dell'Europa, delle nazioni europee. Forse questo aspetto di formalizzazione dell'itinerario è minore nelle Costituzioni dell'Equador e della Bolivia, le quali però hanno di molto interessante il fatto che entrambe sono basate su un apporto dei gruppi indigeni che finora erano discriminati e che in questo modo sono entrati in maniera diretta e in maniera determinante dei contenuti nella fattura della Carta Suprema dei rispettivi Paesi. Diro poi alcune altre cose per dare il quadro, ma intanto voglio ricordarvi, ma già lo vedete dal libretto illustrativo che sarà la prima relatrice. Qui abbiamo la professoressa Salvo Nordal, docente di filosofia etica all'Università d'Islanda che è stata, ed è qui particolarmente in questa qualità, presidente e forse, non so se ancora esiste il Consiglio Costituente, ce lo dirà, ma del Constitutional Council, così almeno la traduzione inglese di cui io dispongo, che ha redatto la Costituzione con un largo processo però partecipativo. Il secondo relatore sarà il professor Boaventura de Sosa Santos, sociologo, fondatore e creatore del Centro di Studi Sociali dell'Università di Coimbra, che è un centro a forte valenza internazionale, che ha in qualità di consulente dei due presidenti dei due paesi, ha molto, non so se dire accompagnato, influito, insomma, è comunque lavorato sulla elaborazione di queste Costituzioni e conosce molto bene la storia di questi paesi e la loro attualità. Sarà chiamata a un importante commento, come dire, posso dire forse più generalizzante anche, no? Sulla base degli aspetti di filosofia teorica, di filosofia della politica. La docente di scienza politica, che non ha bisogno di presentazione davvero qui alla Biennale, dove fa, mi pare, quattro cose diverse in questi giorni, Nadia Urbinati, che insegna in un'università americana e adesso, mi pare, anche al Sciences Po di Parigi, e che quindi farà il terzo intervento. In realtà divideremo poi la mattinata in due turni, nel senso che ci sarà un primo gruppo di questioni che riguarda il processo come si è svolto nei tre paesi, il processo di drafting, ma più che di drafting, diciamo di lavoro sulla Costituzione e come secondo turno invece si vedranno un po' i contenuti, sommariamente ovviamente, i contenuti di queste Costituzioni per capire quanto la metodologia partecipativa con cui sono state create queste tre carte ha inciso, incide sui contenuti e in particolare sui contenuti partecipativi dopo della gestione ordinaria di questi stati. Perché questo, io dico tutto questo? Perché quando si parla di partecipazione ci possono essere un po', non dico delle confusioni, ma delle sovrapposizioni di piagni. Partecipazione non è un istituto puntuale, è una classe generale di modalità nuove per interagire, per l'interagire della società sulle istituzioni nei processi di decisione pubblica. E quindi si va dalla semplice, diciamo semplice, tradizionale come dire partecipazione elettorale, cioè agli istituti rappresentativi, anche attraverso i partiti ovviamente, che sono una forma storica importante ovviamente della partecipazione della società alla vita delle istituzioni. Poi ci sono le forme di democrazia diretta, dette più propriamente così, il referendum prima di tutto. Poi però ci sono altre forme ovviamente di partecipazione, per esempio c'è una partecipazione come dire normale attraverso l'esercizio delle libertà, la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, di riunione, di tutti i cittadini e delle associazioni, quindi c'è un versante individuale e c'è un versante associativo. Quindi i movimenti per esempio, ma non solo questi, i comitati, tutta questa autonomia di base si potrebbe chiamarla, esercizio anche di forme di autogestione nella società. Poi c'è un'ultima serie di forme, questo è un gruppo molto vario, che io credo si possa chiamare più specificamente democrazia partecipativa, in un senso specifico, perché poi la parola anche questa è usata in termini molto generali, per esempio nel dibattito pubblico italiano, qualche volta anche abusandone diciamo, o mirando a cose troppo generali così da essere generiche, imprecise. Mentre per democrazia partecipativa possiamo intendere quantomeno quelle forme in cui in procedure di decisione pubblica intervengono elementi della base, della società, e intervengono perché, come dire, c'è un'accettazione reciproca. La base, prima di tutto le istituzioni intendono accettare un contributo della base e la base vuole intervenire sulle istituzioni e non fare parte per se stessa unicamente. Naturalmente i conflitti ci sono e restano, però è importante che ci sia questa duplice volontà. Esempi sono i bilanci partecipativi che si stanno diffondendo in alcuni comuni italiani a partire dall'esempio primigenio e tuttora vigente di Porto Alegre in Brasile, che molti di voi certamente hanno presente. Poi ci sono forme di urbanistica partecipata, piani regolatori, adesso si chiamano piani strutturali in genere, elaborati con una vera partecipazione di cittadinanza e non unicamente dal Consiglio Comunale e dal Sindaco e dalla Giunta. Ma poi ancora i dibattiti sulle grandi opere. Questo è un tema molto presente anche in Italia. Ieri sera c'è stato anche un dibattito apposito che io non ho potuto sentire per ragioni di coincidenza tra le tante iniziative, perché c'è un progetto di legge più o meno perfetto del Ministero dello Sviluppo su questo, ma l'esempio è l'esempio francese del Debatt Public, dove in Francia veramente le grandi opere sono discusse attraverso una procedura pubblica. Ma ci possono essere tante altre forme. Quelle che forse conoscete di più sono quelle piccole, ma non per questo poco importanti. L'intervento della popolazione voluto o accettato, quantomeno dal Comune, magari anche sull'iniziativa della popolazione, sulla sistemazione di una piazza pubblica, sull'uso e il recupero di un vecchio stabile industriale. Abbiamo tanti esempi in Italia, poco noti magari, ma alcuni di voi li conosceranno o li avranno praticati. Ecco, vedete quante forme. Ora tutto questo si svolgeva finora, soprattutto a livello di provvedimenti amministrativi. Gli esempi che ho fatto sono chiari. oppure di regolamenti o di regole, statuti di comuni anche all'estero, Chelsea, un caso famoso negli Stati Uniti, ma non a livello di Costituzione. Il fatto che tutto questo sia arrivato, come dire, salito, salito il termine in portoghese e in spagnolo si presta d'equivoci, ma asceso a livello di Costituzione, rappresenta un gradino ulteriore. La massima regola che una società e uno Stato si danno può essere elaborata, come questi esempi dimostrano, anche con un forte apporto delle popolazioni. Naturalmente questo non è facile. Intendiamoci, le Costituzioni democratiche in qualche modo sono sempre state, vorrei ricordare anche questo prima di finire, sono sempre state anche l'oggetto di una partecipazione dello spazio pubblico. La nostra Costituente è quella che ha approvato nel 1946-47 la Costituzione che ci regge e l'ha approvata col contributo decisivo dei partiti, tanto che si parla di democrazia dei partiti, non per quel periodo della storia italiana, ma in parte fino ad oggi. Però, badate, c'era anche, io credo di aver studiato negli ultimi tempi e molti hanno studiato, anche delle forme attorno alla Costituente e ai partiti, che erano dibattiti civili, interventi di associazioni, di molte associazioni, di intellettuali singoli, ma anche di gruppi intellettuali. Quindi anche la Costituzione italiana ha avuto un suo processo partecipativo. Però le forme di cui ora ci viene dato l'esempio vanno molto più avanti in questa direzione e anche nei contenuti come sentiremo in particolare per le Costituzioni ecuadoriana e boliviana, dove il termine partecipazione ricorre molte volte, per esempio per l'esercizio dei diritti sociali, mentre in Italia siamo limitati per ora al rango costituzionale all'articolo 3 della Costituzione, che però non è poca cosa, che fra le tante cose che dice, molto importanti tuttora, dice anche che la finalità, ma quindi anche il metodo, dell'agire della Repubblica sta nella partecipazione politica, sociale ed economica dei cittadini. Che poi questo sia spesso malattuato, che assistiamo a forme di monopolio della rappresentanza, di un non piena interazione, di cui invece vi parlerà Nadia Urbinati, fra le spinte che vengono dalla società e la rappresentanza, che per essere vera rappresentanza deve essere arricchita da tutto questo fermento, ma questo spetterà a lei svolgerlo da par suo. Insomma, vedete, siamo dentro una tematica molto importante per noi, può parere astratta, ma è tutt'altro che astratta, è estremamente concreta e quindi abbiamo molto interesse a sentire parlare di queste Costituzioni. Ecco, io ho cercato di dare un quadro per il problema e adesso darei la parola a Salvor Nordal, che ci racconterà prima di tutto, la prima domanda è proprio questa, come ho già detto prima, per i relatori e avranno circa un quarto d'ora ciascuno, in particolare il processo complesso dell'Islanda, mentre sui contenuti forse il tempo dovrà essere maggiore per Boaventura, De Sosa Santos, mentre il procedimento magari per te, immagino, è meno importante, ma vedrete voi, voi avete da dieci minuti a un quarto d'ora per parlare ciascuno e così seguirà la professoressa Urbinati. Allora, la parola a Salvor Nordal, ringraziandola molto di essere qui con un viaggio lungo, non facile, non diretto, immagino che sia passata attraverso la Francia o la Germania o l'Inghilterra, ma insomma, e comunque la ringraziamo molto di avere dato una parte del suo tempo a questa presenza qui in Italia. Grazie davvero. A lei la parola. Grazie. 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 Grazie per la introduzione e grazie per avermi invito qui. Sono molto felice di essere qui, è un grande honore, sia in questo theatre ora e anche in Torino per la prima volta. Grazie. Benvenuti. A me RN. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. E buttare a buon décimo fa la crisi che abbiamo Dakota una uscita 2008. Icela era uno dei primi paesi europei che era davvero difficile. E noi eravamo espostati a l'Europa a quel tempo, per essere il paese del paese. Sì, abbiamo visto che ci sono molti paesi altri paesi in un paese simile. Questo è stato un shock per la nazione Icela, perché abbiamo avuto un boom in l'economia, e siamo stati sicuri che le cose stavano davvero bene. Allora abbiamo avuto la crisi in un modo drammatico. Abbiamo avuto un luogo di emergenza per la prima volta che abbiamo avuto il nostro parliamento, e il primo ministro ha avuto la nazione. Quindi è stato un shock. E questo ha avuto molto debate in Icela sulle nostre valori, cosa stavano, come potete riuscire la nostra fiducia, in la nostra politica, perché uno di questi problemi che è stato discutito era l'allianza, che credo possiamo vedere tra i politici e i finanziari. e quindi la nostra politica è stata iniziata questo è stato di riuscire, se avete visto il riuscire di Icela in un'infinite. In un'infinite, in un'infinite, in un'infinite, in un'infinite, in un'infinite. in un'infinite. In un'infinite, in un'infinite, in un'infinite, in un'infinite. di un'infinite. with the minimum changes of our constitution but at that time politicians said we need to take time later to go through a substantial constitutional revision so that is what happened in 2009 and 2010 that was debated in the parliament and it was decided to do it in a different way because prior to that all the debate in Iceland about the constitution had been taken or had been taking place with specialists and maybe few politicians quite a small group of people who had sort of been engaged in that dialogue but this time it was opened up and so it was decided to have a constitutional assembly elections to have a constitutional assembly and then that assembly would write or rewrite the constitution to prepare this work they also decided to have a constitutional committee and that committee was a committee of seven people and there were specialists on that committee and they sort of prepared the work to gather information going through all these issues that they thought would be important to look into and then there was a national forum that was a one-day meeting from the public and this was a meeting of a thousand people and they were elected or sort of chosen randomly from the national registry and there was a very good participation but this was only a day but it was a very productive day and there people were sort of discussing values and different topics and from that the committee sort of the constitutional committee prepared the work and the result was quite a big report from the committee to prepare the work of the constitutional assembly the constitutional assembly was elected in a general election and I'm sorry this is a long story I could go on for a long time but I think it's important to give sort of the background but there was a lot of hindrances or a lot of things of course got on this long way but we had the elections in November 2010 and there were 500 people more than 500 Icelanders who wanted to be part of this assembly which was quite more people than people had sort of anticipated and we are talking about a population of 300,000 so it was a great interest among individuals to stand on this election and then 25 people were elected and then actually the elections were taken to the Supreme Court and the election was invalidated by the Supreme Court and that was of course a very difficult setback to this whole process and there's a lot to say about this process but you know I'm not going to go into details but this is all interesting story of course but then the parliament wasn't sure what to do whether to have a re-election or sort of how to deal with the situation at that point so they decided to appoint these 25 people for a constitutional council and I was one of the person elected and it was a little bit difficult since this sort of had happened in between but at the end I decided to agree on being part of the constitutional council and we worked from April 2011 until end of July 2011 so we had four months to work on our proposal then we worked and what we tried to do and what we were supposed to do but of course it was also an exercise in sort of engaging the public during our work so we tried to what we did we sort of used the technology as we could we used the webpage we streamed many of our meetings we had a webpage where all our sort of ideas were posted after each meetings and there people could sort of follow the ideas how it was developing and they could comment on the different ideas and proposals through Twitter or through Facebook and then in some cases there was some dialogue between council members and the public on different issues and then we also sort of sensed what was really which issue was really something that the people were more interested in and what kind of ideas they had so we tried to work sort of in transparent way as open as we could to engage the public and these 25 people who were elected to the assembly to begin with and then appointed by the parliament we were just there as individuals we were not part of of course some people were of course part of political parties but we were not representing political parties so we were there sort of on our own and we were just sort of representing our ideas and we were trying to bring in this dialogue so this is sort of the process and then we handed our bill to the parliament at the end of July 2011 and the parliament has since then been discussing our proposal there are elections coming up in Iceland now in only two weeks so the parliament has already finished their work so it's clear at this point that they have not and they did not approve our bill and they have sort of decided to bring it to the next parliament to work it through what happened during these months I have to say I was disappointed in the way the parliament handled the work in my view our proposal was not final in every detail it needed more work and sort of debate and I would have liked to see more continuous dialogue with the public and with the parties on the issues what happened was really you know that they weren't really sure what to do to begin with so they were kind of slow to start the dialogue and then they decided to have a referendum on the proposal in October last year with a kind of very open questions and that is also a little dangerous I think it opens up a sort of a gap you can sort of interpret the result in many different ways and there are very different views among the sort of the four big parties in Iceland on the issue of the bill so there are two have been rather much against and two in favor so there and we have a politics which is very antagonistic we have even if we are a Nordic country and we have our inheritance comes very much through Denmark and with our constitution we have not been able to sort of inherit the way the other Scandinavian countries have their dialogue in politics I'm afraid so we have more like this oppositional antagonistic that we can see for instance in the US so I think the culture is the political culture is a little bit more like that I'm not quite sure how it is here in Italy or maybe we are similar to you but we are not very much like the Nordic countries however we have adjusted the system because we got the constitution originally from Denmark so we we are a parliamentary country we have and of course Althinki our parliament called Althinki is one of the or is the oldest in Europe dates back to the 930 but yeah but it's so the parliament is very important in our system and we in our proposal so we continue with that but so we have this inheritance sort of mixed partly from the Nordic countries and partly from others so we have seen that there has been a lot of fight in our parliament for the past months or even ever since we finished our work and what the parliament decided at the very end after a very hot debate towards the end of this parliament they decided to change one article and that's the article that allows the parliament to change the constitution with a referendum because what we have is similar to our constitution now is similar to for instance in Denmark if we want to change the constitution the parliament needs a majority and then we need elections and another second parliament needs to approve with a majority so it's a simple majority of two parliaments with elections in between this means that it takes a long time in Iceland to change the constitution and it needs a broad consensus but it's not difficult some say it's more difficult to go through a referendum but anyway it takes longer time because if the parliament decides to change the constitution it has to end the parliament and have an election so it usually is approved at the very end of each parliament if they want to change so what they did they changed the article so now it's possible for the next and that of course is if the next parliament will agree on these changes then it will be possible to make changes to a constitution or revise the constitution during the next four years and with a referendum where a majority of people are so it we need this changing clause sort of has also needs a bigger majority of the parliament and then a majority of the people so perhaps I hope it's not what we have seen now is that we have managed to take it to the next parliament so it's not so it hasn't ended that it's not just I hope that the next parliament will have guts to keep keep the work going because I think it will be even if they don't do or even if they don't approve of all of our changes at least that they continue with the work otherwise I think it will be a big disappointment in Iceland and I think it's also difficult for democracy because if you engage people so much and if you have referendums and then if you're not going to work and if you're not going to use this material I think people will lose faith in referendums in this process of engaging the public ringrazio molto la professoressa Nordal perché mi sembra che abbia dato conto di questo processo complesso in tutte le sue complessità senza celare i problemi i problemi di difficoltà fra istituzioni e partiti e progetto che riflette di più un'elaborazione dal basso e anche per il futuro è stata molto come dire ha espresso il suo avviso ma senza neanche qui nascondere i problemi che esistono vedete quanto questi processi da un lato sono importanti per smuovere quello che è il clima spesso stagnante delle istituzioni ma d'altra parte non è che siano un ideale che smorcia i conflitti i conflitti esistono vanno affrontati razionalmente vorrei dire con i nervi saldi perché questa è l'unica maniera di risolverli democraticamente in una società che d'altronde come quella islandese è sicuramente una società ricca di fermenti è una società per tanti versi avanzata ecco adesso darei la parola come dicevo prima a Buaventura di Sosa Santos dando atto anche ad una cosa che non mi è capitato di dire prima che cioè questo dibattito è stato anche coorganizzato col centro del studio sociali dell'università di Coimbra di cui lui è il massimo esponente e quindi ringraziamo anche per questo perché è quello che rende possibile in Italia parlare di paesi lontani devo dire la verità forse mi sbaglio non conosco tutto ovviamente delle fonti del nostro paese ma mentre della costituzione islandese sia in qualche modo parlato cominciano a essere articoli a esserci articoli sui libri e le riviste giuridiche italiane che riguardano magari non perfettamente aggiornati come è stato qui l'intervento di Salvor ma ci sono articoli sulle costituzioni di certi stati dell'America Latina andini soprattutto magari del Brasile si parla già di più non batte non batte foglia in Italia insomma non veramente non se ne parla oggi tra l'altro c'è la mi pare oggi proprio le elezioni venezuelane altro paese importante nel capire quali svolgimenti sono possibili in forme che sono ancora una volta diverse contestuali a un altro contesto ma ci sono fra società e istituzioni quindi è importante che anche in Italia sappiamo questo anche perché questo ci porterà forse a sdramatizzare un poco i nostri problemi ecco la nostra costituzione nella sostanza regge con forza e con vivacità avrà bisogno pure di qualche ritocco ma questi prevede anche le vie per farli questi ritocchi che è l'articolo 138 almeno l'opinione che io condivido è questa e quindi insomma lo sguardo sull'estero ci permette di essere non dico più tranquilli della situazione italiana che tranquilla non è però di capire come queste problematiche sono inerenti alle democrazie e quindi vanno risolte con un misto di ragione e di passione che ha la sua importanza per trovare delle soluzioni a te la parola Buaventura Grazie mille per l'invitazione sono molto felice di essere qui e particolarmente questo anno il tema è utopico possibile in effetti eliminare il mercato io direi utopico e quindi possibile perché in Europa ciò che abbiamo oggi e io vengo da Portugale è either tolerabile o intolerabile ma non è spero quindi sono molto felice che stiamo discutendo queste problematiche e sono anche felice perché in realtà ho lavorato con l'indignato movimento in Spagna e in Portugal e ho lavorato con l'Occupi negli Stati in Madison in Wisconsin e in Greece e molti di questi movimenti chiamano una nuova constituzione assemblee e mi chiedo perché le assemblee now perché questo nuovo drive for constitutional assemblies è un different tipo di constitutionalismo che parliamo di e abbiamo chiamato il transformativo constitutionalismo e questo transformativo constitutionalismo in fact the term was very important in South Africa 1994 1995 with the Mandela constitution and it is transformativo constitutionalismo because it aims as transforming the society that's obvious but less obvious is a kind of bottom up constitutionalismo that is to say there are not elites there are not experts that are writing the constitutions there are social movements the people on the streets that struggle for the constitutions make proposals popular amendments as they were called in the Brazilian constitution of 1988 and they try to bring different constitutions and I think the most brilliant cases in this situation are the Equatorian and the Bolivian constitution Ecuador 2008 and Bolivia 2009 they are really bottom up forms of constitutionalism and they have to be understood in the kind of historical context which I'm not going to talk about of course in 10 minutes but I was consultant to both of them and I have been working and participating with indigenous movements in both countries so let's take first the case of the Bolivian constitution first of all we have to understand that the country went through a very very deep crisis well in fact in recent time since 2000 with the so called water war Cochabamba war 2000 was a war it was called a war because it was an amazing social movement against the privatization of war of water in Cochabamba and they managed to keep the water as a national resource against Bechtel and other French company and they managed that and that was part of the energy behind the indigenous movements because the indigenous movements were very strong in Cochabamba and they later on they mobilized against all the neoliberal policies that we have now in Europe and our countries in a sense are obeying as nobody not my students from Latin America or from Brazil understand why the Europeans obey to these neoliberal recipes so they were resisting and in 2003 there was another war the gas war it was a very wide social movement in El Alto in the capital well close to the capital of La Paz on against the rise in oil and gasoline prices so all this led to a social movement pleading for a new constitutional assembly in which in fact Evan Morales the current president was very active and eventually they managed to really get an election for a constitutional assembly that started in a very turbulent way because when Evan Morales won the elections in 2006 in fact they didn't have the qualified majority according to which the constitution should be approved so he had just simple majority and therefore the oppositional parties were very very strong but the process was a very interesting process because the basis for this constitution was in fact what it was called the unity pact the unity pact was a document a fabulous document which every European should read by the indigenous movements they are very different the Andean movements are very different from the Amazonian movements different languages different histories and they managed to produce a single document which a blueprint of the constitution and the constitution was in fact discussed on the basis of that unity pact and it was a fabulous discussion I participated in many events but the end of this drafting process was very turbulent was very turbulent because in fact for many months there was a discussion on the qualified simple majority case then there was a huge discussion on the capital of the new capital of the country whether it would be La Paz or Sucre and the constitutional assembly ended in the worst possible way in a very turbulent violent even way because since the constituents the deputies were meeting in Sucre which was the previous capital the Sucre people didn't like them because they were in favor of La Paz and therefore they sieged in fact they tried to hijack the constitutional assembly and the constitutional assembly had to be finalized in military headquarters to be protected so the deputies were protected against these people in Sucre that were against this change of capital or the retaining La Paz as the capital and then it was approved later on I can't give you the details but they are fabulous for instance they were working day and night and it was impossible to get it approved so they decide the first reading of the constitution was just the table of contents and they approved the table of contents of the constitution and that was approved and later on then the full text only later on the full text was approved in Oruro but then there was another accident is that the opposition tried as probably you know there was an coup d'etat attempt against Ev Morales and the opposition tried to kill this constitution and Ev Morales decided to have a kind of a pact an agreement with the opposition and in order to have the agreement of the opposition he had to displace the constitutional assembly to the congress to the parliament which had no constitutional powers and during that session the congress changed 144 articles of the constitution so you can imagine it is a very convoluted it is a very abnormal type of constitution because the constitution as you will see is different very different contents from the previous constitutions so there was the process I have two minutes for the Ecuador to Ecuador was a very much different system the Bolivian constitution has a very indigenous content which we'll be discussing later and it's fabulous it's very very interesting and it's a learning process for the Europeans the Equatorian process is different because it starts from the election of Rafael Correa that promises to the country a constitutional assembly an originary that is to say it is not based on the parties it's based on the participation of the citizens even though the parties can cooperate and they are going to meet in a very mythic city Monte Christi which is very close to the American base Manta in the Pacific and this city is the city where one of the liberators the national liberators was born and so Monte Christi became the center of this constitutional assembly at that time the indigenous movement was not very strong because the indigenous movement is very very powerful in Ecuador it was very powerful in the 90s but then the indigenous movement tried to have an agreement with a government by a military guy called Lucio Gutierrez and Lucio betrayed the indigenous people some of my friends indigenous leaders were ministers foreign affairs land minister agrarian reform ministers but then they were they resigned in opposition to the government so the movement was weak at the time of the constitutional assembly but they had hegemony in the society there were lots of people non indigenous people with indigenous ideas with indigenous cosmo visions and these ideas are taken to the constitution there was an indigenous party called Pachakutik but he was not very powerful powerful were the indigenous ideas they were spread out in the society and they became very very important in this constitution and again this constitution is going to be a very innovative constitution as we will see and there was opposition in this case Rafael Correa added a qualified majority it was not difficult to approve the constitution it was also turbulent in the final part I don't have time to go into details then there was a campaign a referendum to approve the constitution and the church the catholic church was very much against because of abortion because of right to life as you usually know in Italy and other countries in Europe but the catholic church didn't succeed and the opposition didn't succeed and in fact the constitution was approved in 2008 and since then it has been in power so there were very two different drafting processes the characteristics is that in believe you have a strong social movement behind it and in both cases you have a strong indigenous ideology behind them so how can we match indigenous constitutions with a western centric modern document called constitution that's the question grazie anche a buaventura de Sosa Santos vedete la complessità la complessità anche qui dei processi e adesso diamo la parola a Nadia Urbinati al professor Urbinati che commenterà io credo su una base più generale quello che abbiamo finora sentito allora io parlo in italiano spero che voi seguiate parlerò lentamente così è più facile a me pare di aver capito questo in queste due presentazioni ma anche in un'attività di ricerca di elaborazione di innovazione che sta andando avanti in moltissimi paesi di tutti i continenti di trasformazione della democrazia di innovazione di cambiamento di rivoluzione nelle forme se non nei contenuti ancora non sono aperti e quindi io mi limito ad alcune osservazioni e faccio delle domande perché è questo che dovremo discutere meglio questi processi la prima osservazione questi processi e soprattutto le forme ancora più radicali in atto anche nel nostro paese sono coincidenti ad una situazione oggettiva di impoverimento delle popolazioni e di crisi quindi la crisi economica qui è determinante non è un fattore secondario non è che i cittadini incominciano a discutere di democrazia per puro piacere o perché va di moda c'è una ragione ci sono delle ragioni oggettive di difficoltà reale perché perché la democrazia non può promettere la povertà la democrazia non può promettere situazioni peggiori di quelle che sono oggi la democrazia è un processo che guarda il futuro non il passato perché deve prendere decisioni cambiare situazioni cambiarle in che modo cambiarle per rendere sempre più coerenti ai principi della democrazia perché siamo qui siamo nella città di Bobbio lui ce lo ha ricordato in tantissimi modi che la democrazia fa promesse e le promesse non sono utopistiche le promesse della democrazia non sono irrazionali sono le promesse che può fare non ci non ci fa promesse di diciamo sbattere le nostre braccia e poter volare no la democrazia fa promesse che può mantenere e quando non riesce a mantenerle entra in crisi non è in crisi la democrazia sono in crisi i modi in cui è stata applicata e dalle persone che l'hanno applicata quindi a questo punto c'è un processo di ripensamento oggi di fronte a questa crisi non è possibile far finta che la parte economica sia autonoma da quella politica che le procedure siano indifferenti alla distribuzione del potere economico alla distribuzione del potere sociale non è possibile una dissociazione è possibile quando le cose funzionano bene allora sì si può parlare di una cittadinanza autonoma rispetto alle dimensioni economiche ma quando c'è una situazione di emergenza di crisi questa separazione non funziona e viene discussa perché i privilegi aumentano aumenta la diseguaglianza sociale aumenta la diseguaglianza economica aumenta la diseguaglianza di voce poiché chi ha potere sociale generalmente ha più voce politica contravvenendo all'idea delle uguali opportunità o di uguali possibilità che tutti i cittadini dovrebbero avere sia nel dominio della opinione che in quello della scelta politica del voto la democrazia è una diarchia due poteri opinione e voto e dovrebbero in qualche modo essere sempre correlati nella loro distribuzione uguale quindi queste grandi esperienze interessantissime che ci vengono ci parlano di una situazione di crisi ora la democrazia è anche molto sperimentale perché è nel processo più che nel risultato più nel processo della democrazia il suo valore è nel processo poiché ci può dare anche esiti molto spiacevoli molto spiacevoli non è detto che produca cose piacevoli l'esito non è sempre in correlazione alle procedure diciamo così tendenzialmente egualitarie e partecipative prendiamo l'Europa come esempio noi abbiamo in Europa in azione due grandi esempi di democrazie in transizione o in mutamento qui abbiamo avuto l'esempio dell'Islanda ma pochi giorni fa c'è stato un altro caso di riforma costituzionale l'Ungheria l'Ungheria ha portato ad una riforma costituzionale autoritaria attraverso un processo democratico poiché è passato attraverso le procedure parlamentari e devo dire che l'attenzione che oggi si ha per le maggioranze semplici in tutti i dipartimenti si discute con grande fervore e piacere di ammirazione delle maggioranze semplici contro maggioranze qualificate per me è terrificante io preferisco le maggioranze qualificate e comunque vari processi di decisione l'Islanda con questo lungo processo di processo che deferisce il tempo consente di pensare consente di riflettere e non c'è mai un momento X che cambia la situazione in Ungheria c'è stata una maggioranza che ha stravinto in Parlamento ha cambiato la Costituzione democraticamente in maniera autoritaria con un esito autoritario meno poteri anzi quasi poteri di non controllo da parte dell'Alta Corte limitazione della libertà di informazione e della libertà di espressione violazione del principio della divisione dei poteri quindi potere superiore ai parlamenti ovvero forme classicamente di tirania della maggioranza tirania della maggioranza e poi addirittura interventi sulle popolazioni per esempio è vietato avere dormire per strada è vietato il nomadismo per costituzione ovvero si interviene sulla vita quotidiana delle persone addirittura il divieto dei cittadini ungheresi studenti che hanno ricevuto laurea o il diploma in Ungheria con i soldi quindi dei contribuenti ungheresi di vieto di emigrazione quindi vedete che un esito non è uguale ad un altro per cui quando si parla di innovazione democratica occorre sempre avere l'attenzione anche alle cose che vanno male anche alle innovazioni che non portano davvero a esiti favorevoli noi ne sappiamo qualcosa in Italia dove è vero la democrazia ha anche prodotto situazioni spiacevolissime noi abbiamo avuto governi che sono a dir poco al di là dell'immaginabile in una situazione ordinaria quindi tenere conto di queste differenze il secondo tema che vorrei porre è forse un problema interessante questo stanno riemergendo a meno in Europa ma non solo stanno riemergendo l'interesse per antiche procedure il sorteggio per esempio il sorteggio era usato nelle democrazie atenese poi anche nelle repubbliche italiane dell'umanesimo come una strategia per superare i conflitti estremi tra le classi o tra cittadini con diverso potere e per introdurre elementi di imparzialità per introdurre elementi di giustizia imparziale è la fortuna che decide è il sorteggio che decide non la volontà degli attori e quindi è imparziale e tutti accettano la decisione quindi fare accettare la decisione in situazioni molto conflittuali è stata una strategia che ha messo in campo il sorteggio il sorteggio adesso è ritornato c'era già ovviamente ma nelle giurie nel sistema giudiziario dove appunto si deve cercare l'imparzialità si deve cercare il superamento dei conflitti ma nella politica nel sistema politico il sorteggio secondo me resta un problema resta un problema può andar bene per la soluzione di alcuni casi specifici può andar bene per la formazione di gruppi di controllo che non devono essere tinteggiati di ideologia ma diventa un problema quando si tratta di prendere decisioni politiche per l'intera comunità e quindi io chiedo a voi se l'uso del sorteggio abbia aiutato o meno o cambiato o reso un buon servizio alla costruzione della 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 democrazia perché un conto è superare i conflitti un conto è eliminare la differenza perché il sorteggio non nel sorteggio le persone sono indistinte non hanno alcuna sono uguali si prendono e non hanno responsabilità il sorteggio non dà responsabilità agli attori perché non devono andare al giudizio del voto quindi questa è una prima domanda che vorrei fare la seconda domanda che mi interessa molto è la seguente il caso islandese è molto interessante da questo punto di vista la critica ai partiti politici noi ne sappiamo qualcosa in Italia ovviamente cioè il tentativo di costruire una democrazia rappresentativa diretta direct representative democracy diretta senza partiti ovvero noi col web direttamente in contatto col parlamento come se appunto si dovesse bypassare l'intermediazione without intermedialism allora io perché questo perché il mito classico da sempre della democrazia è dell'autonomia diretta cioè noi ci facciamo le nostre leggi noi governiamo noi stessi se non è possibile perché il territorio è troppo grande c'è la rappresentanza eletta si vede quindi la rappresentanza eletta e le elezioni come un secondo meglio un meno peggio non potendo avere quella diretta dobbiamo per forza avere quella indiretta io su questo ho dei grossi seri dubbi perché la democrazia indiretta cioè quella rappresentanza partiti è non una forma di democrazia inferiore ma di arricchimento ovviamente i partiti possono degenerare diventare oligarchie e quindi vanno controllati e poi repressi e poi cambiati però le forme di decisione sono sempre forme indirette perché noi dobbiamo riflettere pensare la mediazione del pensiero del giudizio è già una mediazione non è che siamo istintivi pensiamo e facciamo nel mezzo tra pensare e decidere c'è l'intervento di tanti fattori la circolazione delle idee l'uso delle informazioni l'incontro casuale o sul luogo di lavoro l'appartenenza ad associazioni c'è sempre un momento intermedio non è mai diretto allora andiamo a vedere questi movimenti intermedi nuovi è vero che nelle esperienze che ci hanno detto c'è il people alone solo la gente ordinaria senza elite e senza altri e io ho dubito e qui chiedo ci sono varie forme di intervento di elito di ineguaglianze non è necessario che siano i partiti anche un'associazione l'associazione di interessi le organizzazioni della società civile sono verticali e chi organizza molto spesso ha dei forti interessi da difendere oppure anche se non sono forti interessi è semplicemente più bravo a parlare più organizzatore più capace cioè le differenze di capacità di valore di tempo che si vuol passare o di piacere chi non piace parlare di politico o far politica quindi l'intermediazione c'è non è che non ci sia ci sono sempre i pochi che intervengono e quindi vorrei chiedere a loro se è così anche in questi la terza e ultima perché io non so quanto tempo ancora ce l'ho ancora un minuto ecco la terza e ultima ha a che fare con dietro la critica dei partiti giustissima perché sono diventati cioè la democrazia diffonde il potere loro sono diventati sclerosi del potere e vanno davvero riformati e cambiati in alcuni casi eliminati per farne altri ma per farne altri poiché come vediamo in Italia non è che se non c'è il partito c'è più democrazia perché c'è sempre il potere di qualcuno che addirittura vorrebbe imporre la volontà sugli eletti il movimento 5 stelle con tutte le grandi opportunità che può avere dimostra i limiti di un movimento non democratico al suo interno e verticistico e dove addirittura viene respinta l'idea di mandato libero imponendo da fuori la volontà agli eletti quindi ci sono problemi seri comunque la mia domanda è questa un altro elemento che emerge è l'idea della non partigianeria in politica la parzialità sembra un male sembra che la politica debba liberarsi dei partiti perché deve liberarsi dai partigiani di ogni tipo deve arrivare ad una forma di imparziale come se il risultato del discorrere insieme del parlare insieme sia una unica decisione uno ha consenso unanime perché e non è tinto di interessi particolari di partigianerie di ideologie ecco io questo ho dubbio perché la democrazia è governo del conflitto non superamento per arrivare ad un unanimismo è governo del conflitto Solone poi chiudo quando la nuova costituzione che aveva messo in campo sembrava vacillare impose i cittadini ettenesi di schierarsi o lì o là o di qua o di là per renderli parte difensori di una costituzione quindi io è questo che vorrei chiedere c'è questo elemento di critica al conflitto ma non il conflitto armato ovviamente dell'idea e se questo è qual è il fine lo scopo è lo stesso di quello che hanno i tecnici tecnocratici i nostri governi tecnocratici vogliono eliminare i partiti i nostri governi tecnocratici volevano eliminare le differenze di ideologie noi abbiamo avuto un governo per un anno e mezzo che è stato contro i partiti tutti i partiti eppure è un governo tecnocratico non democratico quindi c'è la stessa idea che circola l'imparzialità e di una trasparenza come oggettività io su questo dei dubbi e chiedo a voi grazie a Nadia per le considerazioni anche più generali che ha fatto e adesso i due relatori ospiti hanno secondo me un quadro davanti a loro di questioni ancora procedurali come le ultime poste da Nadia Urbinati però io vorrei che prima di rispondere a queste se così mi permetto dessero qualche elemento in più circa la seconda questione che avevo pronunciato all'inizio cioè i contenuti di queste costituzioni perché e del resto la prima la prima osservazione di Nadia Urbinati era in questa direzione il risultato di costituzioni anche partecipative o comunque democratiche come procedura può essere positivo o negativo da un punto di vista dell'avanzamento per esempio dei diritti e allora si tratta di vedere un po' più da vicino prima di tutto i contenuti di queste due costituzioni ecco forse darei poiché le novità maggiori dal punto di vista procedurale dal punto di vista sostanziale forse stanno in America Latina darei prima la parola a Boaventura anche se ci sono contenuti nuovi nella costituzione islandese con un bell'arcobaleno fra la questione della natura nell'Europa del nord e la questione della natura in America Latina che rappresenta uno degli elementi di interesse anche per noi grazie mille dell'esperienza del mondo perché credo l'Europa non ha nulla di insegnare al mondo questi giorni di insegnare Tutti i miei studenti mi dicono, professore, perché la Europa è così difficile di risolvere questa crisi finanziaria? Abbiamo questa crisi in Thailand, abbiamo questa crisi in Mexico, abbiamo questa crisi in Brazil. Abbiamo risolato in Argentina. Perché non possiamo risolvere? Abbiamo insegnato per centrii che l'Europa è la migliore e il centro della democrazia, e tutto il momento non sapeva di risolvere i problemi. Questo è forte, e in realtà anche i miei studenti di Berbacca hanno la stessa idea. Quindi credo che abbiamo bisogno di imparare da queste esperienze e analizzare il contenuto di queste nuove constituzioni. E' un'altra parte, in grado di ciò che abbiamo discuteremo. Noi nuove constituzioni nel mondo, e in particolare queste due, questionano l'idea della democrazia di rappresentazione. No. Secondo la Costituzione Boliviana, ci sono tre tipi di democrazia. Tutti devono essere proteggati dalla Costituzione. La democrazia, la democrazia, la democrazia e la democrazia comunitaria. La democrazia, in 90, ho studiato in Brazil la democrazia participatoria, lo che chiamano participatoria budgete, a lo scopo. Ho studiato estanti, e ora Giovanni Allegretti e altri in mio centro, continuiamo tutto questo lavoro sulla democrazia participatoria. della democrazia, che è un processo molto interessante di articolazione tra la democrazia e la democrazia participatoria, ovviamente. Ma è sempre direttamente, come diceva, perché anche in la democrazia participatoria, c'è rappresentazione, ovviamente c'è rappresentazione. C'è rappresentazione, c'è rappresentazione, c'è rappresentazione. Perché la differenza tra la democrazia participatoria e la democrazia participatoria è che in la democrazia participatoria, i cittadini non decidi. Si chiedono i decidi, mentre in la democrazia participatoria, possono decidere alcuni problemi. Ma la Costituzione di Boliviano ha portato un terzo tipo di democrazia, comunitaria democrazia. sono le mani indigenci, in loro villaghi, in loro comunità, in loro comunità, in loro comunità, di liberazione. Alcuni di loro sono di sorteio, di solito, di solito, di solito, in realtà, in realtà. Alcuni di loro sono quello che i zapatisti chiamano mandando obedeciendo. Dice che si dicevano perché siamo rilassati, siamo rilassati, siamo rilassati, siamo rilassati. Siamo rilassati, siamo rilassati, siamo rilassati, siamo rilassati, non sono rilassati. Non rilassati, non è rilassati. Se un leader diventa un leader di la comunità, si un leader diventa un leader di un'amore, o un'amore o un'amore, o un'amore. Non è un'unica molto buona cosa. È un service. C'è un service che si chiamano un servizio. È un crisis in Europa. Non c'è un etos di repubblico. non c'è un etos. Quindi, questi tre tipi di democrazia è un'innovazione. È facile? No. No. Il parlemento in Bolivia, ha tutti i membri, i maggiori dei partiti, ovviamente, ma ci sono sette deputi che sono designati con le indizionistiche di deliberazione. Quindi, abbiamo qui un intercultural democratico. Perché, ci sono deputi che venivano di diverse deliberative processi. Ma tutti i democrazini sono sancionati dai comuni. Non c'è spazio. che sono stati un esempio, un fatto, un fatto di storia, un fatto di storia di comunità. Ma di un tempo? Perché, c'è un fatto di storia, perché in Bolivia In the first election, one community votes 99% in favor of the same candidate of the party, a given party. And the other party goes to the electoral court and says, this is impossible. There has been fraud. Because it is not possible that 99% of the people vote for the same person. It is impossible. So the electoral court went to the villages, to the communities. In fact, it is a small town. Because the guy was a very clever guy, a very interesting person, a very important tourist. And he went there. What did they see? They saw that the people had been deliberating for four days which candidate would be the best. And after four days of deliberation, they decided to vote for that one. And that's why 99% voted for that person. After four days of deliberation, that is to say, one act that in a representative democracy for us takes one hour to vote, But these people have been for four days deliberating which is the best candidate. And that's why it looked like a fraud seen from the representative democracy standpoint. So that's what we call intercultural democracy. The richness of these processes. So that's what we have to learn. Because we are caught up. And even the indignados very often caught up. Party against party. For party against party. And this is not the debate. The debate is the change in the party system. It's a new relationship between parties and movements. And the possibility of people that are not members of the party to be actively participants in the political process. Because today the parties do not have the monopoly of the representation of interests. And I think I could read that in Bobbio as well. I could read that in Bobbio. So this is the first idea. The second idea, because there are many, many ideas. But I wanted the time. It's another one that is of interest for Europeans. is a new conception of human rights in the Constitution. The Constitution of Ecuador has a full section on the rights of nature. Los derechos de la Pachamama. Pachamama is the mother earth in Quechua. So for the first time in a Constitution, nature has rights. And this is not trivial. Because if you, in the debate, if you want, we can debate what does that mean in concrete terms. For instance, in damages, when a river is polluted. When a water system is polluted. What does it mean that the nature has rights? That nature has the cycle, the vital cycles of the nature have to be protected. And therefore, they have their own rights. They are not human rights. So it is a move from the anthropocentric world of human rights to a biocentric world of nature. Of course, this goes against the Cartesian conception between nature and culture. When I was a consulting firm in Ecuador, and I end with this, an opposition party member came to me and said, Professor Buaventura, you are an European scholar, well known, written lots of books and so on. Tell me one thing. These Indian guys are crazy, aren't they? They want to give rights to nature. Nature is a thing. A thing, an object. An object cannot have rights. And I told him, of course, according to your conception of nature, which, by the way, is my conception of nature in my training in Europe, nature is a thing. But the nature that is here in the Constitution is the Mother Earth. It's the Pachamama. It's not a thing. It's a living entity out of which all of us come. And this is present in Ecuador, and this is present in Bolivia. It's a constitutional innovation of the first kind. There will be many others, but I'll leave it for later. Before the intervention of Salvor, may I give you one more minute to say what is the conception of Buen Vivir? That is another characteristic of the Bolivian Constitution and the Ecuadorian. One minute, just one minute. One minute. The concept in Quechua is called suma causa, and in Aymara called suma camagna. The meaning in Spanish is Buen Vivir. In English, we translate usually good living. Good living is a way of organizing your society according to principles of complementarity, reciprocity, solidarity, with full respect for the rights of nature, and in a society in which there is no individual poverty. A community may be poor, but people are never poor individually. Poor poverty is a collective concept, and therefore there are no winners in the community as long as there are losers. Either there are winning process for all of them, or losing processes for all of them. It's completely different from Adam Smith. It's completely different from the things that we have been used to. So either we learn, or which is usually the European reaction, this is irrelevant, this is indigenous, has no interest for us. But why so many ecological movements are interested in this? Why so many of the young people throughout Europe are longing for these conceptions? Because we have lost faith in some of the conceptions of Adam Smith. Amartya Sen would agree with you. The idea of quality of life, the idea of a correlation between human and nature. Yes, we have. Well, we have. The we, I don't know what is the we to begin with, exactly who is the we. But in any case, there is a tradition. It's not simply the radical individualistic tradition that we can deal about. I think it is. No, it is. It's winning. It's the one, the victorious one. Afta, please, now. Thank you. First to say, I mean, what generated the constitutional process this time was the financial crisis, as I said, and a deep distrust towards the political parties. And I think it's fair to say that the four major political parties in Iceland have still a lot of work to do to sort of come in terms with or sort of transform themselves after the crisis. And, of course, within the constitutional council, this was very much discussed because one can feel or sense this deep distrust. And, therefore, I mean, there was, and many have criticized our bill for being too radical in the sense of not dissolving the political parties, but, you know, that might sort of weaken the political parties quite a lot. And that, you know, is explainable because, I mean, the reason is that, you know, there is this big distrust. And we are still to see more sort of reformation of the political parties. And so, I mean, I think, and I can see, I mean, I think it's political parties, of course, play a big role and are very important, but they have to function. They have to function democratically. And they haven't really, or that's the sense that they haven't. So, I mean, we are still in that transition process, I think. So, within the council, we discussed different ideas. For instance, this old or ancient Athenian idea of drawing a representative or having the system so that maybe 10% of the representatives of the Altingi or the parliament would be drawn by a lot. And I can see, I mean, the pros and cons with, I mean, the one thing we want to see and what we can get from that is sort of we get engagement from the general public. that just, you know, anyone can be drawn. And they have to then take part in this difficult job of being in the legislative parliament. So, I mean, that's the pro. But I can also see that this is a very tricky thing to have. So, we are actually, we discussed it, but it was not in our proposal. So, however, we are seeing changes. I mean, as I said, we have elections coming up in two weeks. And we used to have these four, maybe five political parties in Iceland. Now we are having 14. 14. I mean, there is a huge change in our political landscape at the moment. And one can start to think, okay, I mean, this is, it's easy to form a party. And it's, you know, you're, I must admit, when I was listening to you, I thought, okay, maybe, you know, we'll be better off just having 10% drawing instead of having, you know, all these, all of a sudden, all these parties coming in. And it's impossible to really get to know all the candidates before the, with such a short notice and all that. So, I mean, there is a, you know, the political system can also evolve in that way that, you know, that might become a good option. So, but one thing I also wanted to say is that when we are talking about this system, I mean, we're always balancing different ideas and solutions. And there is no one perfect solution. And I think sometimes when we have been discussing this in Iceland, I've felt that some people think, okay, everything will be solved if we do it this way or that way. But that's not the case. I mean, we're always in this balancing different ways of doing things. and that is also creating this dialogue that we need to have. So, we have to be just clear, have a clear mind in our head that, you know, we are not going to get any right solution that is going to be right for one country or the same for every country. I mean, we have different also culture and different ways of dealing with things. One more thing, I'm not sure if I'm addressing your questions. You would just have to follow them up if I'm not doing it properly. But another thing, I mean, one of the, I think, weakness of our process, and I think, or at least that is what I've been thinking sort of in hindsight, when I see that this has not really, it was not approved by the parliament or the parliament wasn't even able to deal with it properly, is that, you know, it was, I mean, it was a wonderful process in many ways and engaging the public and getting people to have this public dialogue. but it was too separate from the political arena. So, there, we, it was a lacking dialogue between the politics and the, or the politicians and the, and the public. So, it was a little bit like the, the politicians said, you know, now we hand it over to you and you do it and we are not going to say a word while you're doing it and then we take it back and we, hmm, well, we are not, we have all kinds of reservations about what you did. But, you know, so there, and then they, they start to fight in between. So, it hasn't really been this dialogue in between that needs to be done. And I think that is one of the weaknesses that we are facing now, that we can see that it would have been better if, if, from the beginning, we would have a more clear ideas of what the politicians were thinking, what ideas they had, what, and have a dialogue between, I think that's essential at one point. And that is not what happened. So, I think that's sort of, it, therefore it sort of becomes a, 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 a deeper conflict, I think, than, than we, we should have experienced. Thank you. Of course, yeah, and, and, you know, one, and I was saying, you know, this, uh, uh, distrust towards political parties, that means that, you know, we, we sort of keep the system, uh, the, with, uh, I think he has the, the main, uh, leading, yeah, but still we are introducing a lot of direct democracy and that is also been sort of, uh, 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 something that many people have criticized. I mean, it's, uh, it has pros and cons, of course, but there's, uh, there are, uh, uh, new ways of having referendums, uh, both, uh, initiated by the, the people and also to, uh, to, uh, to, uh, to, uh, have a referendum on, uh, law already passed through the parliament. So we have, we are, that's one of the major, uh, uh, new things. One, one thing was to sort of separate the powers, try to separate better the powers between, uh, 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 executive, uh, judicial and, and, uh, and, uh, and the courts, but then introducing much more, uh, possibilities of direct democracy. Grazie, eh, adesso darei la parola al pubblico, se ci sono interventi che possano aiutare a capire ulteriormente quei problemi che abbiamo discusso, io credo che sia importante che alcuni di voi possano, eh, intervenire naturalmente brevemente in maniera da porre quesiti o rapidamente denunciare una valutazione delle cose sentite. Ecco il primo e lì in seconda fila. Sì, innanzitutto vi ringrazio per la vostra presenza, i vostri interventi sono stati molto molto interessanti. La domanda è secca, semplice. Eh, dobbiamo, eh, per risolvere i problemi a democrazia. C'è da pensare a, hm, cambiare i partiti o cambiare le istituzioni. Cioè, ehm, le istituzioni attuali sono modellate sulla forma di rappresentanza politica tipica dei partiti. Eh, parlamenti, eh, rappresentanza territoriale, un principio di un attesto, un voto. E, però nella, eh, cioè, ci stiamo rendendo conto che nella società ci sono tante altre forme diverse di rappresentanza, no? Che non assurgono al rango politico. La mia domanda è appunto questa. Se, ehm, bisogna iniziare a pensare a cambiare, magari migliorare i partiti o addirittura migliorare le istituzioni democratiche con altre forme che rendano possibili altre forme di rappresentanza politica. So che è un po' complessa come domanda, non so se, ehm, bene. Raccogliamo un po' di domande, quindi se ce n'è altre, ora, ebbene. Eh, se no, ah, ecco, sì. Well, uh, I have a question for Mrs. Nordal. Uh, for what I understood, uh, a big role in the of, uh, constitutional process in Iceland was played by the shift in power inside the, um, Icelandic government and, uh, uh, by the rise of the, uh, social democratic alliance and the green left party. And, uh, I've also heard that, um, the, um, still the independent party as, uh, 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 is playing a big role, uh, with medias, with, uh, his, uh, newspapers and the TVs and all other kinds of medias. And, um, I was wondering if this is, uh, is, um, playing something, some, he, he could reach some kind of, uh, 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 he gained back some of his, uh, accountability of his, uh, um, uh, sustained from people, uh, in view of the next election. Uh, thinking about the, uh, the, the vote on the constitutional draft and what could happen if, uh, if, uh, if the independent party would rise to power again, if that is, uh, a chance, if that is a possibility, if it's, uh, uh, a realistic scenario or not. Thank you. Grazie per la presentazione. Il mio nome è Cristiano. Io volevo fare una piccola riflessione e poi una domanda sulla relazione fra i partiti politici tradizionali, quello che sta succedendo in Italia e i casi di Bolivia, Ecuador e in particolare poi dell'Islanda. Eh, perché, eh, quello che la professoressa Urbinati afferma su, sui punti oscuri, diciamo così, del Movimento 5 Stelle è sicuramente uno degli elementi da tenere in considerazione e da osservare in, nel futuro prossimo. Da mio punto di vista, eh, è ancora troppo presto per dare giudizi e sicuramente il dibattito è molto influenzato, eh, dal, dal modo con cui i processi decisionali del Movimento 5 Stelle vengono esportati dai media all'esterno del Movimento. Quindi per avere una visione più obiettiva sicuramente c'è bisogno di, eh, penetrare il Movimento 5 Stelle e vederlo dal di dentro. Eh, senza negare che fino adesso, eh, i processi decisionali ovviamente, eh, non sono stati, per così dire, così trasparenti come, eh, probabilmente si sarebbe aspettati. Eh, però io penso sia innegabile che il Movimento abbia, eh, dato una svolta, per così dire, al modo di fare politica in Italia e il PD stesso, che probabilmente è il, è il partito politico tradizionale più affine al Movimento in quanto a, a programma elettorale, per esempio, ha assunto da, da, da queste elezioni, e non l'aveva fatto prima quando avrebbe potuto farlo, degli elementi di partecipazione, come per esempio, eh, l'elezione dei parlamentari candidati invece che, che definirli da, eh, dall'alto, diciamo così. Quindi, eh, è innegabile che, che, insomma, il, il modello Movimento 5 Stelle stia apportando dei cambiamenti che per tutti noi sono positivi, no? Almeno per osmosi o per, eh, imitazione. Adesso la mia domanda era, eh, nei casi di Bolivia-Equador e poi in Islanda, come si, eh, coniugano le esperienze dei partiti tradizionali con, eh, le, le altre forme di democrazia in Bolivia-Equador e con i nuovi partiti invece in Islanda. Cioè, quali sono le forme che questi nuovi partiti si stanno dando? In Islanda in particolare perché sappiamo che è stata una rivoluzione del popolo, no? E quindi, eh, uno si aspetterebbe che il popolo, rifacendo tutto da zero, quasi, eh, vorrebbe ricreare, eh, vorrebbe creare delle, delle istituzioni nuove, eh, e non aggrapparsi invece a quelle tradizionali che hanno prodotto, eh, la situazione di crisi a cui si è arrivati. Grazie. Una quarta domanda, ecco, e poi, e poi rispondono... Facciamo un secondo turno, casomai, gli interventi del pubblico. Non la traducevo. Eh, only one question. Eh, what was the difference between the management of the crisis, the economical crisis between the, eh, eh, Island Bank and the crisis that have in, eh, chippers. Because they seem that it's where they take very, very different ways. That's all. I can start with the last one, to begin with. the, eh, the, eh, differences is maybe not so much, eh, but it's tackled differently because we are, of course, Iceland is not within the European Union. And, eh, so we are not, eh, we are not, eh, we have, eh, what we did when we faced the, eh, the banking crisis was that we, we just had to let the banks go, basically. They, they were bankrupt. And we just saved the domestic part of the, eh, the banks, just to keep the economy going. But, you know, just to keep the society going, basically. So it's, eh, so, but we, eh, this is a decision that Iceland could take because we were not a part of the, eh, Europe or, or, or the Eurozone. So that's the, eh, I think the, eh, the basic difference between Iceland, eh, I, I must say that I'm not very familiar with the details of the Cyprus crisis. But I, I, as far as I know, it's sort of quite similar. Eh, there's a banking crisis in a similar way. But Iceland has very often been compared between the, the Iceland and Ireland, for instance, because they were, the, the, eh, crisis was very similar in, in, in both countries. But the huge difference in the way of, of, eh, responding to it was that we, we could do it on our own. And, eh, we could actually let the creditors just take the, eh, the, eh, the, eh, the, the fault. So, eh, so there's a big difference there in, in, in being with, and it has been debated a lot in Iceland ever since whether it's better to be inside or outside, eh, the Europe, European Union or, or the Eurozone. Um, with, eh, eh, the question about the, eh, the, eh, the, the Icelandic political situation, eh, the Independence Party is the one, eh, or there has been really two parties, the Progressive Party and the Independence Party. Independence Party is the right-wing party in Iceland. They have been in principle against the constitutional, eh, process from the start. The Progressive Party, not, eh, not the whole party, but part of the party, but in the latter phase of the, eh, the, 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 eh, the, eh, the, eh, the process they have become more and more against. So there are basically two parties with and two parties against. So it has become, and maybe from the start, very political, too political, too, too much sort of, eh, into this, eh, division between the majority and, eh, and the minority within the, eh, within the Parliament. The Independence Party is, is doing rather badly in the, eh, in the polls. So it's, eh, probably it's not going to be in, in power, eh, after the election as, as the things stand now. And maybe that is, because they have been so principled against, eh, until the very last day of the Parliament to, against any, eh, 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 I mean the, 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 they could pass only one article. But the, the, but the, the, however this is a very sort of difficult issue in, within the parties. The, the reason that the, the majority, the, the, the alliance between, eh, social Democrats and the, 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 and the left, zgreens, they didn't pass the, eh. The, the bottom line is that they, they, non aveva una maggioranza in questo quindi c'era una divisione tra le parti ma non aveva un'altra parte ma non aveva una maggioranza e quindi non aveva una maggioranza se si aveva una maggioranza si aveva una maggioranza perché questa è una maggioranza o che era per la parte una maggioranza ma 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 si aveva una maggioranza o la minorita in almeno i parliamentari e che non è la cosa è una complica storia in molti sensi c'è 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 Sì, credo che mi resta le altre domande. Ok, grazie molto. Un'altra parte, la grande differenza, tra molti altri, tra l'Islanda e la Cyprus, è che l'Islanda non era in Euro, e la Cyprus era in Euro, e questo è la grande differenza ora. Credo che la crisi sia risolata, sia risolata più facilmente, se non eravamo in Euro. E questo è quello che ogni trasformazione politica in Europa deve prendere uno dei due passi, e tutti questi saranno molto dolori. Inoltre cambiere il framework democratico dell'Europa, e avvicinare la democrazia a un livello europeo, può essere federale, non può essere dominato come è ora la Germania, non può essere ridotto ora nelle elezioni in settembre di Angela Merkel. Questo non è l'Europa, questo è qualcosa di altro. Quindi, dobbiamo cambiare la struttura dell'Europa, e poi dobbiamo lasciare l'Europa. Bello di questi saranno molto dolori. Ma in fine, questo è quello che succede. perché per molti, molti countriesi, la debta non è più pagata. non è più pagata. Quindi, deve essere restructurato della debta. Questo è avvenuto due anni fa. Io ho scritto un libro, e molti altri persone sono considerate radicali. Ora il Socialista Partito in Portugal, che è una parte governata, è la seconda major parte, è avvicinato. quindi è molto chiaro, che se non cambiare i risultati, se non cambiare il stocko della debta, se non cambiare le strutture della governazione in Europa, non abbiamo mai avuto una Unione europea basata su convergioni. In effetti, a questo punto, i paesi sono divergendo. è divergendo. Divergendo. Greece è divergendo. Portugal è divergendo. Italia è divergendo. Spagna è divergendo. E l'Irlanda è divergendo. Da un corso, che è, a questo punto, è Germania. Il secondo punto è la rappresentazione. Ovviamente, la questione non è necessario integrare la democrazia con la democrazia direttiva o con la partecipazione della democrazia. è cambiare le due. E dobbiamo cambiare la democrazia nella nostra città. Perché, come dicevole, le parti non funzionano non funzionano. Perché non funzionano? Non è perché la partecipazione della partecipazione è qualcosa di altro. In la tradizione libera, c'erano due mercati. Il mercato economico, il mercato di valori che possiamo comprare e vendere. e il mercato di idee che sono priceli, non possono essere soldi, non possono essere vendere, non possono essere vendere, perché sono le nostre politiche. Ora, tutto è per sale. Perché il mercato economico ha dominato il mercato politico. Quindi, corruzione è endemico. Quindi, ha cambiato il mercato politico come un po' 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 ma un po' come un po' come un po' La tradizionale è molto difficile di avere movimenti indipendenti, ma che sono molto potenti. E questo è il problema in Europa. Non abbiamo potenti movimenti sociali. Let's take due esempi. Il movimento di landlessi in Brasile, il MST. Questo movimento è molto potente. Le negociano con i governi. Le occupi il lande, ma non sono stati possibili dal partito di lavoratori. Non ne sono stati possibili dal partito. Le negociano con i vari parti, ma sono indipendenti. Perché sono grandi enough per essere molto potenti, non per essere dipendenti. Let's take in Ecuador, Conay, o in Bolivia, Conamac, o CIDOB. They are very powerful institutions, organizations. Or the women's organization, the Bartolina Cisars. They are very powerful women's organizations. Are they owned by the governing party, by the Morales Party, or by Alianza Paese in Ecuador? No, they are not owned. They have different positions. But the stress on them is tremendous. Co-optation is tremendous. And that's why you see now the divorce emerging. The divorce between the movements and the parties. The indigenous people are not with Rafael Correa anymore. The indigenous people are not with Evo Morales anymore. Even though Evo Morales is an indigenous leader. Why? Because in fact they think that this guy, once in power, is not acting like an indigenous guy. He's acting as a government, a part of the elites. So the tension is there. Why is this tension being solved? By the emergence of new parties. It is difficult to invent the participation of social movements in politics. And we have now in Europe, in Spain, precisely, part of the indignados movement just created a new party, which in fact we are going to study and participate and analyze in May, which is Party X. It doesn't even have a name. X. Because they don't know how to call that party. But they think that they have to create something new to participate in politics. Because of what someone was saying about Iceland. Because if you are too distant from the political process, we are also powerless in a sense. Because we are not in a revolutionary time. So we are not going to take up the winter palace. we are not going to, you know, break through the parliament. We want to change them from inside. And this is, inside is impossible. So we have to do from inside and from outside in a peaceful way, which is the only way I think is the way in Europe and elsewhere. Chi conosce un po' la storia della democrazia è nata, la democrazia è nata per reagire contro l'indebitamento schiavo, di schiavitù che aveva prodotto l'indebitamento. Quindi il tema del debito, della mancanza di autonomia rispetto a chi fa credito, che oggi è evidente, ci sono paesi che sono completamente dipendenti alla merced di istituti privati di credito. È un problema serio. Quindi questo rapporto tra capitalismo finanziario e democrazia è il problema. Il secondo tema che è emerso e che a me interessa di più è questo del Movimento 5 Stelle, che è un fatto nuovo. Io per prima ho sempre pensato e penso ancora che sia stato un grandissimo contributo di stimolo, di innovazione, si potrebbero fare tante cose interessanti in questi mesi. Tuttavia i temi della democrazia interna al Movimento 5 Stelle esistono e non si può dire mi dispiace, non condivido, bisogna conoscerlo di dentro. Io non devo essere dentro le cose per conoscerle, perché altrimenti bisogna essere dentro tutto. Si presume che chi è dentro proponga democratizzazione. il Movimento 5 Stelle appartiene al diritto commerciale privato, è un istituto, è un movimento che appartiene al diritto commerciale privato, non è un movimento con lo statuto pubblico, appartiene a qualcuno. È come eBay, è come Macy's, è come una corporation e questo è un fatto impossibile da accettare per chi è dentro il Movimento. E va cambiato. Democratizzare il Movimento 5 Stelle è un processo che spetta a coloro che credono nel Movimento 5 Stelle e che hanno ragione di crederci, ma devono essere loro a democratizzare quel movimento. Quindi aspettare quelle outcome, aspettare però... La democrazia è un sistema politico, è un modo di decidere, non si può aspettare in eterno. Ci sono dei tempi di decisione che ci piacciono o no. Il deliberare non è come stare in un seminario tra professori e docenti, che non abbiamo un tempo limite. Possiamo discutere finché vogliamo, ma la politica dei tempi di decisione e il tempo è un fattore fondamentale nelle decisioni politiche. Per cui c'è un tempo e non è possibile aspettare, perché ci sono cose da fare ora, altrimenti possono cambiare in una maniera che è veramente radicale. Certo, il giudizio dello scienziato politico può venire anche dopo, aspettare e vedere, ma questo è un giudizio di esperti. Ma chi è nel movimento o nel fare della politica, i tempi sono quelli che sono e quindi bisogna tenere conto di questi. E infine il finanziamento ai partiti. Negli Stati Uniti c'è una rinascita di movimento all'interno fra i costituzionalisti, fra i teologici politici per finanziare pubblicamente il partito. È una vergogna il sistema americano, è una vergogna che ci siano partiti che sono dipendenti di lobby perché sono dipendenti dai loro soldi. In Italia noi avevamo un sistema di finanziamento dei partiti che un referendum ha cancellato e che è stato sostituito in maniera pessima con i rimborsi che non sono controllabili, mentre il finanziamento dato in base al numero dei seggi conquistati in Parlamento era più controllabile. Quindi occorre rifare una legge, rifarla bene, ma guai a pensare di poter eliminarlo. Noi non siamo aristocratici, i cittadini ordinari sono cittadini che lavorano e molto spesso non hanno i mezzi finanziari per far politica. Allora chi li ha fa politica, chi li ha paga e quindi quella sfera di politica che dovrebbe essere separata dal denaro diventa ancora una volta market. Veramente è tutto per market. Bisogna quindi recuperare il senso del pubblico. Il pubblico siamo noi, il denaro pubblico è nostro e dobbiamo noi essere in grado di dire questa parte va per il nostro potere sovrano, quest'altra parte va per i nostri servizi sociali, ma è parte dello stesso schema, non è denaro che viene dato ai partiti. Occorre capire questo perché io non sono d'accordo che tanto, come ha detto Grillo, per mettere su un palco ci sono i volontari. La politica si basa sul volontariato, ma c'è sempre chi ha più soldi, che può avere più voce e usare meglio gli strumenti e questo a me personalmente non credo, non mi piace, cioè è una posizione di violazione di un principio fondamentale dell'uguale opportunità alla voce, non solo al voto. E qui bisognerebbe intervenire addirittura nel sistema di distribuzione dei mezzi di informazione poiché non solo non ci devono essere monopoli, né uno né due, ma ci deve essere una capacità dei cittadini di accedere gratuitamente ai sistemi di informazione. Ora in Italia è più difficile, per esempio due settimane fa hanno preso la decisione, perché la carta stampata non la compra più nessuno, di bloccare, le Camere e il Senato non danno più l'attacco, la condizione ai giornali, non si possono più leggere i giornali online, si legge solo il web di ciascun giornale. C'è una ragione, è vero, non si comprano giornali, bisogna evitare di eliminare i giornali, tuttavia occorre trovare un sistema di supporto ai cittadini, tutti. Obama quando ha aperto la campagna, scusate, ha aperto il suo nuovo mandato, ha promesso, non so se sono promesse vero o false, ma ha promesso un internet gratuito, come bene pubblico, come bene pubblico. E questo è un fatto importante, insomma, che ci deve fare sempre di più comprendere che il privato denaro dovrebbe star fuori dalla politica il più possibile. Non è l'opposto di quel che si potrebbe pensare, in effetti. Bene, abbiamo tempo per un rapidissimo, se non siete troppo stanchi, qualche altro rapidissimo intervento. Mi pare che uno sia stato chiesto da Giovanni Allegretti. Sorry, I was behind the scenes, so why I'm coming from here. Sì, lo faccio in italiano. La domanda è rivolta principalmente a Salvor. Pensando all'importanza che la professoressa Orbinati dava alla fase della mediazione, volevo sapere tecnicamente come avete affrontato come commissione dei 25 nel momento in cui avete ricevuto tantissimi suggerimenti via internet, come avete affrontato la questione del filtro, della selezione, perché una delle caratteristiche tipiche dell'apertura ai grandi numeri che internet permette è quello della ridondanza. e quindi la necessità di un filtro esiste sempre, ma il filtro può determinare anche sfiducia verso il meccanismo, se è troppo dirigista, se è oscuro il modo in cui si mettono insieme le cose, quindi volevo capire tecnicamente come avevate affrontato questa fase. C'è ancora qualche intervento? Non vedo, salvo errore. Allora la risposta ultima, che può essere prima di tutto a Salvor, ma eventualmente anche ad altri se lo desiderano. Allora la risposta che potrebbero sapere could see them online or on the web page and then we tried to address how we tried to address every comment in the way that the people could see if what the discussion had been it I really have to back a little bit we worked in three committees so we divided our work between three committees basically so the issues they were discussed within each committee and in the last our proposal there is also a document that sort of explains each article and there the comments are addressed there you know people should be able to see that they there was a comment made from someone and you know they it was discussed within the committee and either there was there were reasons to to take it in or to leave it out so it's you know people could should be able to see at least most of their comments or suggestions tackled there so that was the sort of our way to 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 tackle this I want to just to add to what Nadia said about the you know we we also we were very interested in these relations between the parties and funding and and we tried to write a clause to to make that very explicit that try to diminish the influence that money can have and that has to be very transparent and that is one thing that we were very much interested in especially after the financial crisis and all the discussion about how individual politicians have been funded in the in the years prior to the 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 banking crisis and we could see that you know people were funded quite enormously by even some of the banks and 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 the main players so that was one of the and also we were interested in the media and I don't think I addressed the the comment that was made from the audience that on on the media I mean the one of the I don't think there's the media fortunately in Iceland is not as political as it used to be but there is one newspaper in Iceland now which is very tightly linked with the independence party but the the other newspapers and the and the and the broadcasting services are not so it's it's not dominated by one party or at least that's not my sense but of course they have a strong having been in power for a long time prior they of course have a strong link to the media and that is something that we have to be very much aware of and we have to try to find ways for the media to be more independent so these are issues that I mean there are many more and one more thing if I may one of the main issue now in our elections coming elections are not the constitution I must admit there is one new party who has this as a main issue that is the constitution but it hasn't been sort of and the polls show that this is not the issue that is most burning what is most burning are individual debts or household debts yeah which is of course related to the constitution of course but it's that is the debt crisis or the debts of the individual households that is the issue now before for these coming elections and people are some of the parties are promising some debt release and so this is because I mean even if we are not Cyprus even if we are not in the euro and there are problems with being in the eurozone the downside in our recovery is that we have our own currency and that was devalued quite dramatically and that means of course prices of all our imported goods are going up and the cost of living is much higher so there are pros and cons with all the systems we have I'm afraid well I don't want to play the devil's advocate I really think that it's a major challenge to separate money from politics it is really a big struggle and the complication I see is precisely because we are in the European Union I have been very much in favor in Portugal only the communist party has been against the European Union and I'm not a member of that party I've been very much in favor of even a federal solution for Europe the problem is that we know now that neoliberalism entered in Europe through the commission not through the individual states neoliberalism entered through the mechanisms of the European commission through Duran Barroso so it is important to have this in mind because now when we are trying to separate politics from money look at what is happening at the European Parliament because again if you want to strengthen the European Parliament now the lobby system is already registered at the European Parliament so the European Parliament is already organized according to American ideas of the lobbying and this lobbying is very very powerful if you look at some of the struggles in recent times what is generics you know medicine genetics or the question of transgenics look at the struggle inside the European Parliament and the power of the lobbies in trying to influence the decisions and of course they do that the same at European Commission so you may be doing the cleaning up at our countries while the messing up is taking place in Brussels that's why I think we have to conduct both struggles and in a sense this crisis is forcing us to focus on our countries leaving the European Union loose dominated by Germany and dominated by the neoliberal I think this is the challenge and of solutions that have helped us to illuminate profondamente thank you to the public that is with us fino ad adesso